Il rischio sismico preoccupa tutti, in particolare insegnanti e genitori. Così, a pochi giorni dall'apertura dell'anno scolastico, la scuola di Avellino Enrico Cocchia rischia di traslocare. Dopo varie verifiche, la scuola di Tuoro Cappuccini è quella che desta maggiori preoccupazioni. L'ultimo intervento tecnico mirato ad adeguare funzionalmente i vari ambienti della struttura risale a circa dieci anni fa. In quella circostanza, i tecnici intervenuti per sincerarsi delle condizioni strutturali dell'immobile chiesero all'amministrazione comunale di intervenire per mettere in sicurezza l'edificio. Purtroppo, ad oggi, nulla è stato fatto. E così, dopo gli ultimi sopralluoghi, si è fatta strada l'ipotesi di un traslogo cautelativo per tutti gli alunni della scuola media. Fino ad oggi, però, una sede in grado di ospitare i ragazzi della Cocchia non è stata ancora individuata. Bisognerà aspettare la prossima settimana, quando ci sarà un summit tra comune, provvido dorato e provincia, per trovare una soluzione idonea per gli alunni e permettere ai tecnici di effettuare i lavori di adeguamento sismico.